Sì, vediamo come appena vediamo, stanno preparando, sono i preparativi, sono i preparativi, vediamo Francesco e i due maestri dei due combattenti che sono il maestro Ruggeri del team Ruggeri e il maestro del combattente di Piero Rosario, il maestro Cucinotta e invece il maestro di mangiamenti fattori. Adesso sono quasi pronti per iniziare con il primo round. L'arbitro centrale è il maestro Antonio Sinoe. Trattando le raccomandazioni del caso, andiamo ragazzi con i pazienti di iniziare. E' iniziato l'incontro. Sì, sono i pazienti di iniziare. Sì, sono i pazienti di iniziare. Sì, sono i pazienti di iniziare. Ok, stop, stop. Stop. Tranquillo. Non è previsto i crisi, non ci ha avuto un giudizio della guarità. E' un'altra persona che è iniziare. la vostra dalla partita è iniziare. Una serie personale di morti vediamo che l'andor piano l'esercizio viene compiutato dall'arbitro. Credo possa comunque riprendere. Alzo le mani, dà l'ok e riprendere. la base studio sarà molto breve come hai visto sarà bellissimo l'unicolo non può più accesso si che l'avevo detto a parte che è il K1 e poi sono tre di un livello sono tre round da due minuti l'arbitro ferma questo non è che conta come il ragazzo l'atleta l'angolo bianco c'è una finita l'attitolo fa intervenire il medico per strutturare la finita un applauso ai ragazzi come vedi i colpi quali li fanno sentire un applauso ai ragazzi un applauso ai ragazzi un applauso ai ragazzi un applauso ai ragazzi um un applauso ai ragazzi Il fatto che sia piena comunque è positivo, vuol dire che quello che facciamo piace. Sai, credo siano queste cose belle. L'importante per capire la professione è che è sempre uno scotto. Sì, sì. Sì, sì. Ok, bravo, bravo, dai. Vai, Rosario! Forza Rosario! Finisce il primo round. Molto, molto... Mario, Mario! Sì, però ci sono due impegni a scolore. Adesso dovrà cercare di forzare. Ricordiamo i due team, i due concorrenti. Sì, ricordiamo i ragazzi. All'anno nostro abbiamo Di Pietro Rosario del team Ruggeri, dall'angolo bianco Maggianelli Fabio del team Dushnotta di Messina. L'oggetta, come al solito, ha otti anni che lo fai, Francesco. Siamo fuori secondi. Dieci anni sempre col maestro Castella. Scusa, Francesco, siamo presi... Un grande applauso, riprendiamo. Grazie per adesso. Tre, due, due. Grazie. Vai sotto, Fabio! Vai sotto, Fabio! Vai, Fabio! Fabio, Fabio, Fabio! Fabio, Fabio, G, quattro voto, interruzione. Occhio! C'è un'esagerazione. Non è libera di questo. Sono soppiati i miei due o tre anni. Vai, Fabio! Ci diamo gli urli e gli applausi. Ci diamo gli urli e gli applausi. Ci trovano questi ragazzi. Dai, ci siamo veramente, come si può dire, la vita. Fatti tutti! 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 un applauso al vincitore di Zietro Rosario e un applauso anche al Mangianelli Fabio del primo Cimotta perché comunque è stato un incontro veramente duro duro ma corretto si preparino adesso la città e la decora fondo di rito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti